Ci vergogniamo a tenerci le mani e non a stringere i palmani. Bisostatico, piatto, ma non manca mai lo smile sul messaggio. Sono sempre più diffusi i casi di crisi d'astinenza, sì, da contatto. Ricerche infinite, ti chiedi dove, dove che vado? Facci una pulita, sai, è facile perdere la strada. Ti chiedi com'è, ti chiedi perché, il mondo ti sfugge appena. Scivola davanti a te, voglia secche di un nuovo ottobre. Senza Google Maps, nessuno sa dove andare. Le testecchine seguono linee schematizzate. E quello che vuoi, quello che hai, ne puoi fare almeno. Ma tu che ne sai? E capita a me come capita a te di sentirsi vivi, anche se davanti a noi parli a schermi luminosi. Sempre di più, sempre più online e dentro sempre meno. Non ricordo da quanto tempo manca un tuo sorriso. E non lasciarmi, non lasciarmi sola. Accendi l'anima che dentro si consuma. Dove sei, condividi con un solo dito. Sei in pieno centro, ma dentro senti l'ecco. Foto più a fuoco, vite più a vuoto, questo è il risultato. Tanta apparenza, nessuna esigenza, scavalco che ha crollato. Torna a condividere col mondo il tuo stato. Torna a condividere col mondo il tuo stato.